E qui chi non è stato a questo concetto si chiede ma che canzone sarà? E qui chi non è stato a questo concetto si chiede ma che canzone sarà? E qui chi non è stato a questo concetto si chiede ma che canzone sarà? E qui chi non è stato a questo concetto si chiede ma che canzone sarà? E qui chi non è stato a questo concetto si chiede ma che canzone sarà? E qui chi non è stato a questo concetto si chiede ma che canzone sarà? E qui chi non è stato a questo concetto si chiede ma che canzone sarà? E qui non è stato a questo concetto si chiede ma che canzone sarà? E qui non è stato a questo concetto si chiede ma che canzone sarà? E qui non è stato a questo concetto si chiede ma che canzone sarà? E qui non è stato a questo concetto si chiede ma che canzone sarà? E qui non è stato a questo concetto si chiede ma che canzone sarà? E qui non è stato a questo concetto si chiede ma che canzone sarà? E qui non è stato a questo concetto si chiede ma che canzone sarà? E qui non è stato a questo concetto si chiede ma che canzone sarà? Grazie a tutti. Grazie.